Eccoci all'appuntamento con le previsioni del fine settimana che questa volta è allungato visto che c'è dentro anche il venerdì 1 novembre. La situazione vede stabilità per la giornata del 1 novembre, poi però le cose peggioreranno. Per quanto riguarda quindi venerdì mattina cielo sereno su tutta la regione tranne nebbie nel Tarvisiano, poi nel pomeriggio cielo poco nuvoloso su tutte le zone, temperature massime che saliranno intorno ai 14-15 gradi. Piuttosto freddo invece di notte nelle valli e anche in pianura con valori che andranno sotto zero nelle valli alpine e di poco sopra lo zero per quanto riguarda la pianura. Ancora Bora da moderata sostenuta per quanto riguarda la costa. Sabato avremo un afflusso di aria già umida da sud ovest sebbene non vi siano ancora perturbazioni in arrivo sulla nostra regione se non in serata. Quindi cielo coperto al mattino, poi in serata delle piogge in genere deboli, più frequenti sulle zone orientali, temperature massime che si limiteranno ai 12 gradi in pianura e 14-15 per quanto riguarda la costa. Per la giornata successiva, soprattutto a partire dalla notte, avremo piogge intense invece per quanto riguarda la zona alpina e prealpina, specie delle prealpi giuglie, con venti sciroccali che potranno portare poi anche dei temporali per quanto riguarda la pianura alle zone orientali. Nel corso della giornata di domenica un relativo miglioramento sarà possibile sulle zone di costa, mentre in montagna rimarrà chiuso con piogge, piogge da moderate ad abbondanti, e di nuovo un altro peggioramento ci interesserà nella notte tra domenica e lunedì. Lunedì mattina reside piogge ancora qualche temporale, specialmente sulle zone orientali, poi dal pomeriggio di lunedì torna il sole, pensando però che già per la giornata successiva, quella di martedì, arriverà un'altra perturbazione in questo flusso atlantico che appunto dà avvio a questa stagione autunnale con piogge abbastanza classiche per la nostra regione e che trovano effettivamente il periodo giusto.